È venuto il momento di conoscere un sensore che aiuta il robot a percepire il mondo esterno. Parliamo del sensore di distanza ultrasuoni. Resta fino alla fine perché ti dirò quali animali utilizzano la stessa tecnica per misurare le distanze e scommetto che uno di questi non lo conosci. Il professor Mattoncini! Nelle scorse lezioni abbiamo già usato dei sensori in realtà, solo che non si vedevano. Erano i sensori di rotazione integrati dentro i motori. Non resisto, devo introdurre qualche termine tecnico. Allora, i sensori di rotazione all'interno dei servomotori si chiamano encoder ottici. I sensori che misurano qualcosa all'interno del robot si chiamano sensori proprio scettivi. Anche noi umani abbiamo la proprio eccezione. Se chiudi gli occhi e io ti chiedo di tenere il braccio steso, completamente piegato o a 90 gradi, in realtà io non ho bisogno di vedere il braccio perché io sento che il braccio è messo lì. Ma la stessa cosa succede per i robot. Cioè, hanno questi sensori di rotazione che gli permettono di misurare un proprio stato interno. Invece, i sensori che misurano qualcosa esterno al robot si chiamano esterocettivi. Per noi umani, esempi di esterocezione sono la vista e l'udito. Ma ora vediamo in dettaglio come funziona questa faccina. In realtà, questi non sono due occhietti, ma sono due trasduttori ultrasonici. Uno emette un impulso a ultrasuoni, che sarebbe a dire un impulso sonoro a frequenza così elevata che non possiamo sentirla. Potrebbero udire i cani, per esempio. Poi, aspetta che questo suono rimbalzi contro una superficie e ritorni indietro all'altro occhietto, che in realtà è un trasduttore ricevitore. Il sensore al suo interno conta, cronometra, quanto tempo ci mette questo suono a rimbalzare, a tornare indietro. Fa i suoi conti e produce una lettura in centimetri. Mentre il mattoncino è collegato all'app, possiamo monitorare la distanza vista dal sensore da qui. La distanza viene fornita in centimetri, laddove 200 è la portata massima, ovvero se non vede nulla restituisce 200. Oppure in pollici, oppure in percentuale su questa portata massima, che non è di grande utilità se vogliamo fare delle cose precise. Il sensore misura molto bene delle superficie dritte, lisce e dure messe di fronte a lui. Però non vedrà oggetti fonoassorbenti, cioè che assorbono il suono, come per esempio peluche, tende, divani e altre cose, tappeti eccetera. Anche le superfici molto inclinate verranno misurate male, perché il suono invece di rimbalzare e tornare indietro, volerà da un'altra parte. Lego ha pensato di aggiungere delle luci LED attorno a questi occhi per dare un po' più di carattere al sensore. A me questo sensore ricorda molto la faccia di Johnny 5, ma probabilmente se sei più giovane ti ricorderà Wall-E. Clicca mi piace se hai visto il film cortocircuito. Per controllare le luci LED attorno agli occhi del sensore di distanza, possiamo andare nella tavolozza luce e scegliere il blocco Illumina D. F, la porta a cui è collegato il nostro sensore, verrà automaticamente assegnata. Io da qui posso decidere di accendere o spegnere i LED attorno agli occhi del sensore. Per esempio possiamo sbizzarrirci e creare dei giochi di luce, un'animazione per gli occhi del sensore di distanza. Utilizzando questo blocco, utilizzando il ciclo infinito per sempre che abbiamo visto nella lezione precedente, e un blocco nuovo, il blocco attendi, che permette di mettere in pausa il programma per un certo numero di secondi. Per avere un'animazione abbastanza veloce, io l'ho imposto a 0,2 secondi. Metto questi blocchi qui dentro e poi duplico questi blocchi per cambiare la lucina accesa. Di nuovo duplica, vado avanti, come sono tanti frame di un'animazione. Duplica, di nuovo, eccetera, e così via. Per semplicità ho già preparato il progetto finito, che è questo qua. Vi faccio vedere come si comporta. Ne accendo uno alla volta in ciclo e poi tutti incrementalmente, tutti insieme, per poi spengerli gradualmente e ritornare all'inizio. Vediamo come funziona. C'è una tecnica di programmazione avanzata per controllare in dettaglio l'intensità di ogni singola lucetta LED intorno agli occhietti del sensore di distanza. È una tecnica avanzata che non posso descrivere in questo video. La descrivono in dettaglio nel mio libro The Lego Mindstorms Robot Inventor Activity Book a pagina 179. Metto il link in descrizione. E ora rispondiamo alla domanda iniziale. Quali animali utilizzano la ecolocalizzazione o biosonar per misurare le distanze? I pipistrelli, che emettono degli squittì e con loro orecchie molto grandi misurano quindi la distanza da oggetti che non riescono a vedere nell'oscurità. Ma ci sono anche i delfini e altri mammiferi che stanno nell'acqua. Ma l'animale che non conosce nessuno è il povero guacciaro, Steatornis caripensis, che è un uccello che vive in Sud America dentro le grotte. Piaciuta la lezione? Clicchetta il tasto mi piace. Non perderti la prossima lezione, a chi è iscritto non se la può perdere, in cui vedremo come utilizzare il sensore di distanza per far evitare al nostro robot gli ostacoli. E non solo. Resta giovane, gioca a modino. Ciao.